Andiamo negli script, clic destro, create script. Chiamiamolo muro senza varchi. E' quello che ci disegnerà una riga orizzontale o verticale a seconda dei parametri che riceve sullo schermo, nelle posizioni indicate. Di nuovo mi aiuto con il gioco in funzione per spiegarvi quali sono i parametri che riceverà esattamente questo script. Una X ed una Y che identificano l'angolo in alto a sinistra, il pixel corrispondente all'angolo in alto a sinistra del primo mattone da disegnare. Poi dovrò dire quanti mattoni disegnare in orizzontale o in verticale, che è il terzo parametro. X, Y, quanti mattoni. Ultimo parametro mi dice appunto se andare in orizzontale o in verticale. In automatico, se vi ricordate, i quattro parametri che GameMakerLanguage, il GML, indica col termine argument, 0, 1, eccetera, vengono appunto ricevuti così e io però preferisco copiarmi per maggiore chiarezza il primo parametro che è argomente 0, si diceva, in una variabile che mi ricorda il suo significato. Quindi metto, non so, tipo posX. PosX, quindi, gli copio l'argument, argument, u, ment, 0. Poi in posY, l'altra coordinata in cui disegnare il primo dei mattoni, è argument1. Il terzo parametro che ricevo, quando poi andrò a chiamare questo script, ancora dobbiamo vedere l'utilizzo. Si chiarisce poi il tutto anche nel momento in cui vado a chiamare questo benedetto muro senza varchi. Il terzo parametro è il numero dei mattoni, n mattoni l'ombola X, anzi no, numero mattoni, facciamo n minus la X, argomente 2, il numero, no, poi c'è il quarto parametro, abbiamo detto che è 2X, posY, la direzione. Quindi, direzione, la direzione in cui andare è corrispondente all'argument3. No, stavo pensando che non ha senso distinguere X ed Y perché è la direzione che mi dice se andare in orizzontale o in verticale, quindi ha più senso chiamare, non so, questo, quanti mattoni, quanti mattoni disegnare, quanti mattoni è l'argument2. E la direzione in orizzontale o in verticale è data appunto da argoment3, ok, adesso è più logico, è più coerente. Indico anche in un commento come viene codificata la direzione, potrebbe essere la lettera O minuscola per orizzontale e la B per verticale. Quindi mi scrivo direzione, allora se O è orizzontale, mentre V sta per verticale, così non ci sbagliamo. Adesso, per capire quello che stiamo facendo, non preoccupiamoci fin da subito di voler far disegnare l'intera fila di mattoni. Facciamogli disegnare uno, poi andiamo da qualche parte a chiamare lo script e vediamo apparire in una certa posizione il primo di questi mattoncini. Poi proveremo a ragionare su come mettere a fianco di questo tutti gli altri. Quindi, indico un riferimento, faccio una chiamata all'instance create, che appunto vuole sapere dove mettere come posizione X, quindi abbiamo posX e posY e l'oggetto da creare è appunto il mattone. Basta per il momento, eh? Chiudiamo, magari dopo aver verificato che è tutto ok dal punto di vista sintattico lo script e richiamiamolo, vabbè, dal solito creation code della stanza può andare. Dunque, quindi, muro senza varchi, me lo propone lui. Vuole sapere dove, facciamo 50,150 come posizione. Ora, il terzo parametro lo indico, ma poi so che non lo sto usando, che è quanti mattoni, è sempre uno, anche se metto 12. E la direzione, vabbè, di nuovo posso mettere anche un valore senza senso, mettiamone uno che ha senso, la O per orizzontale, ma è un solo mattone, non interessa certamente capire se disegna un mattone in orizzontale o in verticale, lo stesso. Confermo, lancio il programma, ed ecco qua il nostro mattoncino in posizione 50, in orizzontale e 150 in verticale. Cambiamo, mettiamo 300, 300. Quindi questo è quello che di là ho chiamato l'argument 0, questo è l'argument 1, questo è l'argument 2 e questo è l'argument 3. Vedete che ora le cose si cominciano a capire un poco di più? Lancio il gioco, mattoncino in 300, 300. Adesso siamo pronti a fare il prossimo passo, non un mattoncino solo, ma tanti mattoncini. Disegnato il primo, dovrò incrementare in qualche modo la posizione X di quanto è largo, abbiamo visto prima con il diagramma, un mattoncino, spostarmi, disegnare un altro e così via. Quanti? Bella domanda. Intanto lo script non se ne preoccupa, perché lo riceve il quanti, per cui noi torniamo nel nostro script muro senza varchi e lo riceviamo. Quindi è un problema di chi chiama il muro senza varchi sapere quanti farne disegnare, quindi ci pensiamo tra un po'. Adesso ci limitiamo invece ad organizzare un ciclo che per quanti mattoni volte disegna un mattone. Conto da 0, quindi mi fermo col minore stretto. Da 0 a quanti mattoni meno 1 come valore. O se preferite mettete che parte da 1 e i minore uguale di quanti mattoni. Ogni volta incrementiamo la i, naturalmente, ecco così andrebbe a disegnare tutti i mattoni uno sopra l'altro. Quindi effettivamente ci sarebbero tanti mattoni, ma dal punto di vista visivo vedrai soltanto quello in cima, l'ultimo. Dobbiamo spostarci dopo ogni disegno di un mattone a destra o a sinistra. Per il momento ce ne freghiamo, però poi basterà fare un if su orizzontale e verticale per sapere se dobbiamo incrementare la x o la y. Però facciamo finta che il muro sia solo in orizzontale e quindi dobbiamo spostarci con la x verso destra di un valore pari a quanto è largo lo sprite del mattone stesso. Possiamo quindi utilizzare lo sprite, questa funzione, comodissima, sprite get, cioè dello sprite prendi la larghezza in pixel e qui devo indicare uno sprite sp, sp, mattone. Vediamo se non ho commesso errori, come spesso mi capita registrando e scrivendo codici in contemporanea. Questa volta nel creation code questo 12 non viene per niente ignorato, saranno 12 mattoni disegnati partendo da 300-300. Ci staranno tutti? Andiamo un po' indietro, va. Facciamo 100-50-150. Eccoli qua. 150-150. Infatti si travede il quadrato qua con un po' di immaginazione. Da qui, questo è il punto pos x, pos y, argomente 0, argomente 1. Argomente 2, finalmente stiamo usando anche quello, quanto? 12, 3, 6, 9, 12. Ora, scegliamo se andare in orizzontale o in verticale. È sufficiente mettere un if qui, a occhio. Quindi se direzione è uguale a orizzontale, allora incrementa la posizione x. altrimenti incrementa la posizione y. Post y. Occhio qua che allora è sprite get l'altezza. Devo spostare verso il basso di uno spessore pari all'altezza dello sprite del mattone. That's it. Ci siamo. Chiudo. Orizzontale, quindi non dovrebbe cambiare nulla rispetto a prima. Ops, allora. Sprite. Ah, GHT. Non G... Ok. Dunque. Doppio clic. With GHT. In effetti il colore diverso me lo stava già segnalando come problema. Ok. Come ci aspettavamo. Ma ora è sufficiente dire qua V in verticale per ottenere questo. Ecco, poi non ho controllato quanti ce ne stavano quindi sto andando addirittura fuori dalla stanza. Quanti ce ne stanno? Quanti ce ne devono essere in orizzontale? Beh, intanto dipende perché se stiamo disegnando la cerchia dei muri più esterna allora è finché ce ne stanno effettivamente. Ma poi dovremmo spostarci verso l'interno per la seconda cerchia delle mura e quindi dovremo applicare un incremento alla posizione della X spostandoci verso l'interno e anche della Y e quindi diminuisce il numero di mattoni che ci stanno sia in orizzontale che in verticale. Intanto facciamo conto di voler fare quello esterno quindi devo sapere quanti mattoni ci stanno in orizzontale? La risposta è un calcolo un calcolo che mi rende dipendente da quante grande la stanza io prendo il valore che corrisponde alla room width questo 640 da codice lo divido per quanto è largo uno spray del mattone e so quanti spray di mattoni ci stanno facile no? La stessa cosa in verticale torno nel mio script dunque anzi no nello script nel nel creation code perché qua che devo dire quanti allora com'è che chiamiamo la variabile per tenerci dentro quanti mattoni direi quanti lungo l'asse x ed è dato dicevo da quanto è larga la stanza room width che bello è già pronta questa costante predefinita questa è una costante no variabile predefinita diviso quindi è è lunga mille la stanza beh mille diviso quanto è lungo uno spray di mattone sprite get width sp mattone poi dovrebbe gestirsi lui i rotti cioè 12,3 dovrebbe pensarci lui poi a trasformarlo in 12 penso comunque ce ne accorgiamo poi lanciando il codice vabbè mi serve anche sapere in partenza per il muro perimetrale mi preparo per dopo quanti sono lungo l'asse della y quanti y beh ormai avete capito è facile prendo l'altezza della stanza e lo divido non per la larghezza ma per l'altezza dello sprite del mattone ok sp mattone ora qui beh se vado in verticale in effetti poi mi serve proprio quello allora se lasciamo in verticale metto quanti ce ne stanno in y però attenzione eh se parto da 0 0 quindi partendo in posizione utile per il muro più esterno è 0 0 in verticale ce ne stanno ok quanti y calcolato qua di verticale risultato risultato voilà e abbiamo la nostra parete a sinistra verticale completa ingrandisco la stanza nessun problema 1024 fa la divisione o avrò più mattoni esattamente quelli che ci stanno eh sì sto andando in verticale poco senso ovvero quello che sto facendo 768 ecco e se metto orizzontale avete capito metto qua quanti y quanti ce ne stanno in orizzontale nella cerca più esterna e ottengo questo beh se avete capito come funziona lo script per la singola fila orizzontale e verticale che ci vuole capire lo script che per quattro volte chiama questo con la O poi una seconda volta per la O per fare il muro che sta in basso bottom poi una terza volta per il muro di sinistra e una quarta volta per il muro di destra magari staremo attenti a seconda dell'ordine per evitare di scrivere di disegnare dei doppioni di mattone perché se dopo aver disegnato questo qui io inizio a scrivere e a disegnare la fila verticale ancora da 0 0 è chiaro che vado a mettere un mattone in più di troppo qua sopra che al limite non danneggia l'economia del gioco e poi dovrei andare in verticale di nuovo potrei fermarmi un mattone prima devo spostare un po' la stanza avete ragione se non mette nulla potrei fermarmi qua lasciando lo spazio per la fila orizzontale inferiore dei mattoni oppure disegnare tutto fino in fondo e poi iniziare la fila inferiore una posizione di mattone più in là detto questo se uno vuole un po' tagliare la testa al toro senza può tranquillamente dire fa niente vuol dire che negli angoli avrò due mattoni uno sopra l'altro per il pacman che si sposta non cambia veramente nulla il perfezionista invece andrà a fare i suoi bravi calcolini calcoletti e imporrà l'ordine giusto e il numero di mattoni giusto meno uno qua e là dai vi lascio con questo esercizio sta diventando lunghetta se no la lezione provate a fare uno script chiamatolo muro completo senza varchi completo perché fa proprio le quattro pareti sinistra destra alto basso quello script richiamerà quattro volte con parametri diversi lo script più semplice che fa soltanto uno dei lati ci sentiamo anzi ci vediamo e alla prossima ciao